Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi inizieremo una nuova serie che uscirà sporadicamente sul canale su Vintage Story. Ahimè, la faremo questa come puntata pilota anche perché ho sbagliato e ho creato, cioè ho registrato purtroppo con il mute sul mixer, quindi il microfono non si sentiva. Quindi avremo una voce fuori campo che ci guiderà appunto in questo gioco e la utilizzeremo come puntata pilota, quindi la puntata zero. Andiamo subito con la creazione del personaggio, andiamo a scegliere come sarà il nostro personaggio, quindi scegliamo il colore della pelle, degli occhi, la nostra voce. Quindi ho scelto come sassofono, come voce, è abbastanza bassa, mi piace a me. La voce è un po' più bassa e sarebbe meglio. Dopodiché andremo a scegliere la nostra capigliatura, quindi metteremo con la calvizie e i nostri baffi. Andremo a confermare la nostra skin, ma i baffi li vogliamo neri. confermiamo e come classe, dato che vi sono diverse classi, andremo a scegliere noi quella più comune, un semplice cittadino comune che non ha nessun tratto, nessuna skill di vantaggio o nessun benefit e nessun malus, ma partiremo proprio da zero. E da questo momento in poi siamo, eccoci qua, siamo all'avventura su Vintage Storm. Nudi e crudi come il culetto di un macaco, come si suol dire. Le prime cose da fare in questo gioco, sì, ci ricordano tanto quello di un altro gioco, ma non è in questo caso ed è subito andarci a procurare degli oggetti, cioè degli attrezzi, crearci degli attrezzi. E l'unico modo per crearli è appunto con della selce e delle altre pietre. Quindi ci andremo subito a creare dei coltelli con la tecnica della scheggiatura, ovvero lavorare una pietra con un'altra pietra. Tenendo premuto lo Shift abbiamo il mouse libero dalla camera, scusate, il pulsante Alt. E adesso andiamo a raccogliere i nostri bastoni che ci serviranno da manico per l'attrezzo fatto. E lo andiamo subito a craftare. Ed eccoci qua, abbiamo il nostro primo attrezzo, un coltello, un coltello di pietra che ci permette di, diciamo, raccogliere materiale un po' più velocemente rispetto alle mani nude e crude. Il nostro inventario è misero. Abbiamo solamente la hotbar, la barra che vedete in basso, e non abbiamo nessun inventario. Quindi dobbiamo andare a procurarci subito un qualcosa per costruire, diciamo, i nostri zaini. In questo caso possiamo costruire solamente dei cestini di tifa, chiamatele cestini di vimini o quello che volete, comunque sia dei cestini per poter aumentare un po' di più gli slot del nostro inventario. Ci raccogliamo un po' di tifa, ne serve un bel po', fidatevi. Infatti il nostro inventario, come dicevo, è vuotissimo. Abbiamo trovato della bellissima argilla che abbiamo segnato con un segna posto, così ci possiamo ricordare dove l'abbiamo trovata, grazie alle nostre macro. E adesso dobbiamo andare alla ricerca di un posto dove passare almeno la prima notte o un accampamento dove poter vivere. Esplorando un po' la zona, siamo in questo posto, sembrerebbe un'isola, questa è abbastanza spoglia, dove non ci sono alberi, non c'è niente, solamente c'è spugli praticamente. Altra serce, ci piace, ce la raccogliamo e andiamo a crearci subito il nostro cestino. Il crafting è abbastanza semplice, ok, vediamo se riusciamo a farne un altro, ahimè ce ne manca uno, e andiamo subito a raccoglierci l'arrestante che ci manca. Ahia. Giustamente c'è il danno da caduta, quindi qui mi sono rotto, mi sono sblocato la caviglia, diciamo. Raccogliamo altrettanta tifa per espandere sempre di più il nostro inventario. e ci costruiamo un altro cestino. E finalmente il nostro inventario è un po' più grande, riusciamo a raccimolare un po' più di roba. Ci mettiamo in un punto alto e osserviamo un po' il panorama. Diciamo che questa zona non è pessima, è abbastanza pianeggiante. Direi che forse fa al caso nostro. Scriviamo della torba e troviamo anche delle bacche ottime come cibo di sostentamento per i primi tempi. Noto che c'è anche un albero da frutto. Ci mangiamo un po' di bacche per eliminare quelle. Facciamo un po' uno spuntino. Dopodiché, Uh, ottimo! Abbiamo trovato anche dei pezzi di rame in superficie. Il che significa che sotto c'è un giacimento e lì abbiamo la nostra prima rovina. Che, diciamo, possiamo utilizzare come come base della nostra casa. O come, diciamo così, primo giaciglio? Vedremo in seguito. Dovrebbero esserci dei tesori di solito nelle rovine c'è sempre un tesoro. L'ho cercato, non l'ho trovato subito. L'ho trovato in seguito. Ci costruiamo subito un'ascia appunto per tirare giù un po' di alberi. dopo aver tenuto la nostra bellissima ascia andiamo subito a fare ciò che sappiamo fare bene e meglio. raccogliamo un po' di paglia in giro per prepararci un letto, un giaciglio e un po' di selce che non fa mai male e andiamo subito a tagliare i nostri alberi per procurarci della legna. Sapendo che la legna non ci soddifferà abbastanza, non riusciremo mai ad avere tanta legna per crearci il nostro primo giaciglio e quindi forse dovremmo optare per un altro materiale. E iniziamo la fase di deforestazione del quattro piccoli alberi che ci sono in giro. Ce n'è veramente pochi in quest'area e forse la pianura è bella ma forse dovremmo incominciare a ripiantare un po' di alberi man mano che andiamo a tagliare. Naturalmente in giro ci sono un bel po' di giacimenti di rame e il che ci fa presagire un ottimo, un ottimo posto dove poterci ambientare. Abbiamo delle abbastanza, abbastanza risorse. Raccogliamo ancora tifa per espandere sempre più il nostro inventario. per costruirci gli ultimi due cestini e portare quindi il nostro inventario diciamo alla massima capienza per adesso. Ancora paglia che ci servirà per crearci il nostro primo focolaio ma anche il nostro letto. Ok. E dopo essersi rotto il nostro primo attrezzo e il nostro coltello fortunatamente quando ne crea ne creiamo due di coltelli ci equipaggiamo del nostro super bellissimo nuovo coltello, nuovo di pacca appena affilato e andiamo a buttare giù un albero. Ci consideriamo quindi gli ultimi due cestini armati finalmente fino a denti di lo spazio e l'inventario ci facciamo anche una pala diciamo che è abbastanza ricca questa zona e quindi diciamo che gli attrezzi base del mestiere ce li abbiamo mi ricordo sempre che con alt sinistro alt sinistro chiamatelo alt forse anche il destro non funziona non lo so non mi ricordo potete avere la il mouse il puntatore del mouse libero ci prendiamo un bel po' di terra perché perché la legna è poca e scarseggia in questa zona e quindi costruirci la casa di legno sarebbe un grande spreco di energie e di risorse torniamo a casa casa per quello che può essere chiamata casa e andiamo subito a crearci a pensare di dove mettere la nostra casa eccola qua l'urna trovata e contiene cibo che è ottimo per iniziare la partita facendo l'ultimo spuntino con dei chicchi schifosamente crudi andiamo a cercare di crearci un qualcosa prendiamo l'altra terra sfruttiamo questo piccolo atollo di terra per senza toccare la torba e direi di costruire la nostra casetta proprio in questo angolo ho deciso di costruire la nostra casetta proprio in questo angolo quindi andiamo subito a sfoltire a pulire un po' la zona dall'erbaccia approfittando appunto che ci dà la paglia per poterci creare altre cose e andiamo subito a crearci della terra abbattuta ma non sapendo come si crea perché me lo sono totalmente dimenticato andiamo a cercare nel manuale come si fa la terra abbattuta la terra abbattuta si fa in questo modo dopo aver creato 60 blocchi di terra abbattuta siamo pronti a crearci il nostro spazzetto la terra abbattuta perché perché la terra abbattuta non cresce l'erbaccia e quindi non avremo la casa infestata tutta quest'erba quindi rimuoviamo il terreno sottostante abbiamo trovato anche delle ossa e andiamo a crearci il nostro pavimento un blocco qui un blocco là una colonna e tac diciamo che la struttura è quasi pronta facciamo il tetto un po' più alto tac e sistemiamo un po' raccogliamo un altro po' di terra per farci un altro po' di terra abbattuta e andiamo a creare le nostre pareti eccola qua più o meno quasi ci siamo diciamo puliamo ancora un po' all'interno e voilà qui manca l'ultimo buchino da chiudere questi non si possono chiudere e ci siamo diciamo che la nostra casina è pronta dato che non c'è abbastanza legna andiamo a piantare il nostro primo alberello di betulla che ci metterà un bel po' di giorni per crescere ci raccogliamo un altro po' di terra che non guasta mai e adesso ci andiamo a creare questa casa non ha una porta quindi dobbiamo crearci una porta e quindi ho deciso di creare due cancelletti per appunto per far sì che i mostri la notte non entrino in casa mostri animali selvaggi eccetera eccetera e quindi riusciamo a stare un po' più in sicurezza ma ahimè mi sono accorto che sono accorto di bastoni e quindi andiamo a procurarci un po' di bastoni buttando giù alberi deforestando cespugli e già si è fatto quasi tardi sono le 6 e già siamo all'imbrunire quindi dobbiamo fare le cose di fretta raccogliere più bastoni possibili immaginabili per poter tornare e rifugiarci in casa dopo aver raccolto abbastanza bastoni e un cespuglio che crescerà per darci delle bacche che ho deciso di posizionare lì andiamo a creare il nostro cancelletto naturalmente è un cancelletto grezzo non rifinito ma fa il suo scopo fa il suo scopo eccolo qua e lo posizioniamo come porta finalmente signore abbiamo la nostra casetta dopodiché dobbiamo farci un focolare cioè una luce e anche un posto dove cucinare le nostre le nostre pietanze ci facciamo un accendifuoco abbiamo solo un bastone ahimè il bastone proprio volano in questo gioco quindi vado alla ricerca di altri bastoni si alza il vento e la raccolta del bastone continua e questa volta ne raccolgo un bel po' quindi ritorno a casa e mi accorgo che stavo quasi per perdere la casa se non fosse stata per la mappa quindi credo che dovrò mettere un segnaposto per casa nostra entriamo in casa e ci chiudiamo immediatamente perché sono già le sette e mezza di sera chiudiamo i buchi lì ci voglio fare il letto e qui diciamo tu vorrei mettere il nostro campfire il nostro popolare però soffre avendo la memoria come un pesce rosso mi sono totalmente dimenticato come si faceva sia l'accendifuoco che il focolare quindi vado a rileggere nella guida come si facevano questi due oggetti e riesco a fare l'accendifuoco ma non mi ricordo proprio del focolare e quindi lo vado a leggere nella guida per principianti fuoco e luce e ci servono quattro pezzi di legna da ardere e siccome dobbiamo bruciare un bel po' direi proprio di fabbricarci in un bel po' accatastiamo l'altra legna e accendiamo il nostro primo fuoco rudimentale in vintage story e luce fu abemus luce finalmente questa è casa nostra fuori già è buio siamo arrivati come si suol dire just in time e adesso ci serve un letto un giaciglio per dormire per la notte quindi ci facciamo il nostro bellissimo letto di paglia schifosissima paglia ma va benissimo per i primi tempi almeno abbiamo il fuoco la luce e quindi anche il calore bene io direi che per questa puntata pilota è tutto e come sempre lasciate un like o un commento e si fa iscrivetevi e sono ben accetti suggerimenti a livello di costruzione del tipo fai il tetto piano o spiovente o come volete chiamarlo chiamatelo ma non date consigli non date spoiler praticamente perché è sempre meglio meglio i consigli su sulla costruzione un primo ultimo spuntino prima di andare a dormire e come sempre siete mitici alla prossima bye bye ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.